Le messe di Natale si svolgeranno nella piena osservanza delle norme, lo ha detto all'Agenzia ANSA Monsignor Mario Meini, Vescovo di Fiesole e Pro-Presidente della CEI, introducendo i lavori della sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente. Va da sé quindi che se verrà mantenuto il coprifuoco, la Santa Messa, anche di Natale, dovrà svolgersi prima della mezzanotte. Un problema che non preoccupa Riccardo Fontana, Arcivescovo di Arezzo Cortona e Sansepolcro. L'importante ha detto ai nostri microfoni che gli aretini vengano in chiesa. Ma non ve ne siete accorti che noi la Messa di Natale l'abbiamo anticipata da almeno una ventina d'anni, che la prima Messa di mezzanotte si faceva alle sei di pomeriggio, non ve ne siete accorti nessuno. Va bene, ora poi faranno quel che è possibile. Io portai molto a me, basta che gli aretini vengano in chiesa. Che ore sono? Se la vedrà ognuno, faranno le scelte che vogliono. Non siamo mai all'esercito, che marcia deve stare agli ordini di chi? Siamo gente libera noi, ecco, significativa e anche forte perché avendoci, domine Dio, come amico non abbiamo paura neanche tempo del coronavirus. Si sconfigge anche quello. Aiutatemi però a far girare un po' di speranza tra la gente, perché la prima risorsa per venire a capo è la grinta del popolo. Se il popolo ce la mette con la sicurezza che se ne viene a capo, come in tutte le pandemie, in tutte le guerre, in tutti i pasticci c'è stato un dopo. E il dopo speriamo arrivi presto. Però non saranno le messe a cambiare d'orario che fanno problema alla gente.